Sto andando dio merda ancora più schifosamente di me io almeno riuscivo a morire io ce la faccio il conto il conto da rovescia fermo su 9 8 c'è un altro sono in due sta attento io sono fermo io sto spawnando mancano 6 secondi ma è tipo cazzo sei morto come sono morto ma come ho fatto a buttarne uno giù ho fermato il tempo ho fermato il tempo no non ho ammazzati due vadim ma stati due fermando il tempo ne uscirò sto spawnando sto spawnando le hai uccisi le hai confermate? si sono morti ma non ha senso sei sul tetto ancora? sono giù sono giù sono giù allo shop per riprenderti io ero sul tetto se riesco a questa la devo salvare ci sono non so io ho visto la prima killcam la seconda non ho perché mia che stava caricando no veramente assurdo di fuori ma è vero allora sono spawnato puttana eva oddio c***o perchè se non mi significa che siamo ancora in quattro e vabbè c'è un altro team guarda e non c***o coprono avviso e riesci a confesso aspetta aspetta qui e lo ha shottati qualcosa c'hanno guarda ragazzi è bello un'ora di partita per fare la prima 6 ragazzi wow sto piattrando ok frameretta sono pronto ok sono pronto non vedo nemichi però serverebbe un c***o di Wavii lancio di equipaggiamento alleato Grazie.